buongiorno buongiorno benvenuta benvenuto e bentornati sul canale anche da noi siete passati grazie 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 allora video veloce nostra situazione dove sono io non te vedo sto testando la gopro nuova e la 10 fammi ombra fammi ombra senti questa bene siamo all'8 di luglio abbiamo sei settimane disponibili e non sappiamo dove andare ancora questo è un mistero decideremo fra due ore mi sa che ce la giocheremo con le monetine mi sa niente che dirvi e mandarvi un saluto a tutti voi con questo video augurarvi buone vacanze perché perché non sappiamo se riusciremo a fare i contenuti faremo magari qualche short qualche post su facebook lei e instagram io facebook no perché non lo uso più da febbraio e vediamo vediamo di sicuro mi è arrivata ieri la conferma al 25 di agosto sono a dusseldorf per la fiera del camper quindi vi porterò qualche novità come l'anno scorso non posso andare chiavo lavora portami soldi per viaggiare va bene e con questo mini video noi vi salutiamo vi auguriamo le buone vacanze per chi lo può permetterselo chi non può promesso una buona estate una buona estate soprattutto serena e ci vediamo più avanti più avanti ciao